Troppo giusto, c'è chi da un taxi driver e un top gun, troppo giusto, se ti piace questa roba benvenuto nel club, troppo giusto Vabbè è un onore, è un onore poter cantare la sigla con quello che l'ha ideata, G-Max È la mia volta che la canto dal vivo poi Bellissimo, allora perché G-Max è qua? Perché questa puntata è tutta incentrata su un mondo che lui conosce molto bene Quindi io ti chiedo, presenta tu gli ospiti come si dire, perché io ho già fatto una cappellata all'inizio quando abbiamo fatto l'anteprima Vabbè ci riprendiamo subito, sono emozionatissimo e contentissimo di avere in studio qui oggi Partiamo dal nord, direttamente da Torino il grande Enzi, poi direttamente da Roma, uno delle king di Roma, il grande Noiz Narcos Buonasera Buonasera, buonasera E poi arriviamo a Napoli, lui è famosissimo ormai, show, 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 showman nel senso che oltre al rapper secondo me è anche un bravissimo attore Questo ancora è il grande Clementino Quindi potremmo presentare un film suo fra un po' qua, no? Secondo me teatro, cinema E poi chi abbiamo? Un amico tuo, eh, qua? Beh, un fratello, lui è veramente un fratello, ormai più dei vent'anni che ci conosciamo Tra l'altro io sono anche il padrino di una delle sue bimbe, l'ho tenuto a battesimo Addirittura A Nicole, vi mando un bacio, il grande Marco Manetti dei Manetti Bros Vabbè, però non si può iniziare, se non presenti, fallo tu, fallo tu È un altro fratello, perché ho vari fratelli sparsi per, insomma, per la televisione Marco Giusti Vabbè, però ti sei accontentato di questa... No, qui Va bene, però prima voglio lanciare la Top 5 Troppo Giusti Grazie a tutti Grazie a tutti